Allora raga, benvenuti da Jump in un nuovo video, sposto un attimo nella cosa della cinepresa che registra il telefono In Ligo Fragets Mobile, io gioco da mobile, ragazzi vi spiego perchè non mi va di scaricarlo sul computer e non mi tira il culo Vabbè, comunque a parte questi scherzi, io c'ho quest'eroe qui, c'ho Saber, Elis, spero che si chiama così Trigger, Clint, Eudora, Zinglun, Laia, poi credo basti, non c'è più nessun altro Ragazzi, io questi giorni ho fatto molte partite con lei, ma vi spiego Sì, ci sta come personaggio, ragazzi, ma è molto lento a colpire, è debole, è molto lento a camminare Io, ragazzi, giocavo tipo con lui, anche lui è molto veloce, molto abile Ragazzi, abbiamo questo a sbloccare, questo cos'è? Lampo azzurro, no? Va bene, non è male, ok Ragazzi, non mi faccio della connessione perchè tanto non serve un cazzo Qua dobbiamo migliorare, lo miglioriamo E ci andiamo a fare una partita, avvioniamo una partita Ragazzi, farò però una partita ed in game Perchè, ragazzi, sono molto lunghe, sono troppo lunghe, troppo troppo Dura una, ragazzi, una partita dura quasi 17 minuti di registrazione e mi scoccio Ok, ragazzi, questa Ci sarà un supporter E ho capito, ragazzi, però io non è che c'è per tutti questi gran personaggi Cioè, tutto quello che volete, ragazzi Vabbè, porterò lei, cosa vi devo dire? Un titol, un titolatore E ho capito, fratello, ma non ho tutti questi gran personaggi Io, cioè, posso portarti anche un supporto, quello che vuoi Io porto lei Eh, però non è che c'è per tutto questo gran che di... Sì, loro ragazzi usano anticamente due, tre, quattro colpisco alla distanza Sì, infatti Sì, infatti, cioè, loro... Oh, l'avversario hanno dei buoni personaggi Cioè, un buon team messo insieme, non è maluccio Non è maluccio In parte che qua, sì, fa tutto Perché lei non l'ho mai usato, ragazzi Dunque, sono tutti a livello 1 Dunque, alla fine ci sta Che siamo tutti a livello 1 A parte che devo portare tutti... Devo ricominciare a portare tutti i personaggi su di livello C'è tanta roba da fare Tanta, tanta roba Qui come cazzo faccio a richiudere l'acqua C'è tanta roba da fare Questo è l'ora, ragazzi Proviamo a fare un bel push Ok, qua sono già morto come un deficiente di merda Perché pensavo... Questo che cazzo sarebbe? Ah, questo praticamente... No, non ho capito che fa sto coso Vabbè, vabbè Comunque ci sta, ci sta Lì su praticamente stanno inculando le torri Dunque direi di... No, anzi, ce ne sono ancora tre Direi di continuare per questo percorso lì Direi di andare tutti all'attacco E così buttiamo giù qualche torre Qua veramente stanno rompendo troppo le palle Sti cosi di merda Se tu muori mi fa un piacere Devi morire Sì, vabbè ragazzi Quante volte l'ho buttato... Cioè, quante volte l'ho colpito quel personaggio? L'avrò colpito 80 volte Ragazzi, non è andato giù Manca una volta Cioè, ragazzi, è di hit Ne l'ho fatto Ho trovato tre ulti Non è andato giù una volta Cioè, mi rode poi anche il cazzo Porca troia Vediamo se... Ok, salgo di livello 2 Mi fa piacere Questo deve morire Guardate, guardate Non muore Non muore, ma... Sì, vabbè ragazzi Ci vuole tre hit per farlo giù Non è possibile Questi... No, hanno rotto le palle Se volete morire Mi fate un piacere Carichiamo la ulti 2 Ok, qua non vado io prima Perchè altrimenti ci rimango secco Lascio andare prima loro Cerchiamo di buttarli giù la torre Così Rimangono poche torri qua In piedi Ragazzi, tu pensa qua Ci penso io lì Ci penso io questi tizi Non ti preoccupare Tu pensa a far fuori la torre Bene, attacchiamo tutti insieme la torre Ragazzi, comunque stiamo facendo fuori sta torre E sono morto io Cioè, io sono arrivato dopo Lei lì che lo inculava da mezz'ora Sono morto io Non è possibile Cioè, vedete quando dura questi gameplay Durano tanto Per questo lo porto uno Una partita ogni video Perchè durano tanto E... Dopo dura un video troppo lungo Magari non vi piace Non lo so Ragazzi, cerchiamo di fare fuori questo Ok Facciamo fuori questo Facciamo così Ragazzi, magari lui mi dà un super... Ah, facendo fuori questi personaggi qui Magari... Alcuni vi danno un supporto Che non è male come supporto Vi dico la verità Non è maluccio Perché una volta uno di questi L'avevo fatti fuori Tipo non so se era ieri Ma dava un supporto enorme Ok, vedi questo vi dà 1500 Mi fa recuperare 1500 In totale ho recuperato 3000 di vita Penso Non è male Facciamo fuori questo coso qui Ragazzi, questo Anche questo ci dà tipo Una specie di supporto Sempre se non vengono odiati A romperci le palle Ragazzi Ho bisogno di una mano Una mano bella grossa Porca troia Qua ci rimango veramente secco Se no ci rimango secco Vabbè ragazzi Lasciamolo andare Fa lo stesso Non mi interessa Ok Qua veramente Mi serve un supporto enorme Ragazzi Veramente Sì vabbè Se ci metti pure tu Che cazzo Se ci metti pure Tu A romper la minchia Allora vuoi proprio morire Cioè basta Ragazzi Ricopriamo un po' di vita Senza morirci male Da queste Se ci muoio da qua Ragazzi Quinto tutta la partita Porca troia Sono due Cazzo Si rigenera pure Ok Andiamo a fare fuori Questi sgorbi Del cazzo Ok Ragazzi Sono andato avanti Un po' di livello Superando quella torre Sì ragazzi Ma veramente Sti cosi Mi stanno rompendo I testicoli Sti cosi Ecco la riva Porca troia Deve morirci male Sto tizio Deve morir Male Ci spostiamo un po' Per non subire danni Alla torre La torre è crollata A posto Bene Vi ho fatto un po' di strada Ragazzi Potete comunque Andare Pushare Come non ci fossero domani Ragazzi Io praticamente Eh Questa famma Mi assisto per morire Semane In questa torre Cioè qua Non posso fare niente Perché a parte che ci sto Per morire male Secco Stecchito Allora Prendiamo qua Ci prendiamo questo Così non lo prendono Gli avversari Ci curiamo un po' Ok Sei rigenerata pure Per la vita Ok ragazzi Dice questo Proviamo a fare un bel push Proviamo a pushare Ragazzi Ma perché Io arrivo dopo E colpisce me Invece che colpire I miei alleati Cioè io non ho capito Perché fa così Sto gioco Cioè io alla fine Ragazzi sto Praticamente Cioè io sono arrivato dopo E push a me Non push I miei alleati Eh Oh cazzo Ragazzi non ho visto qua Cioè voi avete visto qua Lì ci stanno praticamente Aratando il culo Eh E io non mi Mi sa che devo andare a difendere Perché se no Ragazzi qua Se no ci aratano Il buco Del bucio di culo Che bucio di culo Che c'ha avuto questo Vabbè qua Continuiamo comunque A farlo salire Poi ragazzi Ci hanno praticamente Arato tutte le torri Non c'è Deve farmi fuori Questi mi farebbe un piacere Se mi faresti fuori Siamo 11 a 4 Ragazzi Non è che Mi curo un po' Vai 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 tu a colpire la torre Così non mi colpisce a me Dai Aiutatemi a colpire la torre Sì frate Guardate quanto Guardate quanto Di leva ragazzi Di leva un botto Di leva un botto ragazzi Ma proprio un botto Cioè ragazzi Di leva un botto E Mi dispiace per quel ragazzo lì Che è morto Però ragazzi Devevo sacrificare qualcuno Ok Una torre l'abbiamo fatta fuori Devo per forza sacrificare Questo tizio Eh ragazzi Sto gioco è fatto così Non ci posso fare niente Vai andate voi Così non mi dovrebbe Pusciare a me Facciamo fuori questa torre Allora Faccio fuori io questi Così dovrei comunque Riuscire A dargli Supporto a questi Che un po' rompono il cazzo La torre Potenziamoci La nostra vita Tra Se tu ci muori Mi fai in tu cazzo Di favore Perché mi ha già Mi ha detto le palle Ok Tu muori Grazie Così non ci rompi Più le scatole Voi continuate a fare Forre la torre Ragazzi in alto Vedo a destra Che stanno Naturalmente Pushando male Ok Questa torre è andata E' andata puttane Ok Difendiamo bene Ragazzi Oh ragazzi Se volete Se volete Video di questo Gameplay Qui O altri Gameplay Tipo Clash Come porto Call of beauty Ragazzi Dovete solo Dirmelo nei commenti Ragazzi Perché a me Mi piace Far video Però ragazzi Deve anche Il piacere Guardarli Perché se porto Un video Di merda Che non vi piace I miei video Ragazzi Non lo posso Portare sul canale Allora ragazzi Se tu mi davi una mano Era meglio Vabbè Comunque Stavo dicendo A me ragazzi Mi piace Fare video Come faccio Video stupidi Su tiktok E su instagram Che su instagram La pagina Si chiama Confaternita di fuoco Sì vabbè Io potevo anche Dargli un nome migliore Cazzo Qui mi stanno andando Il culo Porca troia Merda Me ne devo andare Ragazzi Qua parla Mi sono distratto Beh vabbè Chi se ne fotte Comunque Guardando qui Noi stiamo comunque Andando bene Anche se qua Loro ci hanno Questa parte qui Ci hanno Dove ho messo il segnale D'attenzione Ci hanno Aradato Il culo Alle torri Vabbè Stavo dicendo Che a me a fare video Mi piace Però ragazzi Devo vedere anche Un supporto Perché se no Tipo se Clash Royale Ho visto che non vi piace tanto Lo porto Pochissime volte Raramente Ci gioco io Perché mi piace E basta Ma sapete che a voi Non vi piace Non sto lì a portarlo Se a voi non vi piace Io spero che comunque League of Legends Mobile vi piaccia Perché a me mi piace E vorrei portarlo sul canale Questo mi ha rotto il cazzo Perché ogni volta Che mi attacca Dio prete Sto sempre a rompermi il cattus Vediamo se riesco a fare Eh no niente ragazzi Con me ci rimango secco Pure sta partita Però veramente Cioè questo ragazzi Leva troppo Noi mi blocca tutte le abilità Non posso fare niente Mi stai scocciando Fratelli Giù mi state scocciando E muori Ci tumbo Mamma mia Vieni Non ti preoccupare Ti squaio la famiglia Va bene ragazzi Ricopriamo un po' di vita Così Dovremmo comunque Mamma mia Questo Ma pure questo Con il pallone Non ci credo Mamma mia Occhio La tua l'abbia fatta fuori Questo è stordito Vai Boom È morto Mamma mia Mi state scocciando Vi giuro Tu mi hai rotto Scappa Scappa Mamma mia Se ti entravo con la ulti al 3 Ti facevo il mazzo Più che mia sorella Veramente Vedete ragazzi Ci siamo già a 11 minuti Di registrazione La partita è lunga Dunque ragazzi Ho deciso di fare Una partita gameplay Perché se no Diventa troppo lungo Il video A parte che Finisce 14 minuti Sicuro Sta partita Però vabbè Troppo lunghi Ho visto che non vi piacciono Allora Porto gameplay normali Tipo Non so Di 11 o 12 Passimo 14 minuti Che è tipo Un gameplay normale E magari Vi piace di più Perché è troppo lunghi Ho visto che non vi piacciono Questo è la Oh hai rotto le palle Questi soldatini di merda Che rompono sempre le palle Aspettate che qua c'è un personaggio Magari riusciamo a fare un push Un push decente Eh guardate Questo che mi leva tutto Guarda 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 Non ci riescono ad andarmene Secondo me Non riescono ad andarmene Secondo me Secondo me ci rimango secco 10 Mengo con 3 HP 10 HP Niente raga Mi tocca andarmene Me ne tocca andarmene Perché se no Ci muoio secco Ragazzi Ci muoio secco Ma secco proprio Ok Sono morto io Ma è morto pure il guerriero Dunque sono abbastanza felice Perché dovevamo Cioè veramente Quel personaggio è illegale Cioè Blocca tutte le abilità Eh peccato che a me Nello shop Non mi è venuto fuori E non lo potevo neanche shoppare Prenderlo con le monete Perché Non ce le ho Dunque faccio ben fatica A prenderlo con le monete Naturalmente c'è il mio gatto Che sta girando Dovunque io vado Va bene Così lo stesso Ci sono i vicini Che urlano Peggio che Sai che cazzo Stassero facendo Però non mi interessa Proprio sapere cosa fanno Non me lo chiedete neanche Ok 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 Facciamo così BOM E muoreci secco Cazzo Qua io dovrei uscire Da questa situazione di merda Perché è proprio una situazione Eh vabbè Si c'è un raggio lungo 6 metri Sta torre Vabbè Mi sa che ragazzi Stavartita Se ragazzi Se almeno facessero fuori Una di queste due torri qua Cioè raga Guardate le torri Hanno pochissima vita Ma non so perché Questi non riescono a farle fuori Ok Loro stanno attaccando Alla base principale Sono abbastanza felice Perché vuole portarmi a casa Questa vittoria Direi tutti Andrò all'attacco Ci potenziamo L'ultimo livello 3 Andiamo Vai vai vecchio Non mi devi aspettare Cazzo Cioè Capito che vi serve un tank BOM Perché non è uscito A fare un cazzo Ok Questo l'ha stordito Io provo a pusharlo Ok Andiamo alla torre Vai alla torre Vai alla torre Vai alla torre Non vi potete preoccuparmi Non preoccupatevi di me Ragazzi Prego andare qua Così non mi Eh vabbè Sono arrivato Chi è uscito Secondo voi Il cavaliere E mi ha washottato Non per di meno Non per di più Ma Che palle Quando succede Sti cose Ragazzi Questo personaggio È bellissimo A me mi piace Uno mi piace La skin Due mi piace Perché è forte Cazzo ha fatto Quello Ha preso Praticamente Il cestone gigante Che sta lì Ah va bene Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ok Lì Ah lì Praticamente Ci stanno Venendo a pushare È un problema Se ci vengono Push E questo Che cazzo Ci fa qua Che di gronto Abbiamo visto Che di gronto Abbiamo visto Che di gronto Abbiamo visto Ma che palle Sti personaggi Ma che palle E tu che cazzo Vuoi giocare a pallone Tu vuoi giocare A pallone A calcio Vai 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 Fammi uscire Da qua Che se questi Cioè Arraggio lungo Sei metri Questa torre Allora ragazzi Io vedo questo Che sta Caricando Noi cerco Un attimo Di difendere I miei alleati Perché Allora Facciamo così Questo lo andiamo A dare a lui Facciamo Così Non capisco Perché non mi ha Attivato l'abilità O magari Non l'ho vista Io Boh Sono in mezzo Suonato io Ragazzi Ha 948 Di HP Riesciamo A farla fuori Cazzo Che fra un po' Bestemmio Veramente Bestemmio L'anima di Oh ragazzi L'hanno fatta fuori L'hanno fatta fuori Mamma mia Ragazzi Io Praticamente Ho difeso Io uso Sto personaggio Ragazzi Per difendere E per attaccare Però veramente Questi Frisch Krause Di questi Non l'ho visto Non ho fatto niente Ok Ho fatto Praticamente Mi sono liberato io Riscattiamo questo Poi cosa abbiamo Riscatta Abbiamo regali Riscatta Sto ferma E basta Il negozio Vediamo cosa c'è Gemme Vabbè Non ho gemme Questo è gratis Vabbè Vai Prendilo Mi è scattato Io vorrei vedere Animazioni No Niente Lotteria Inizia questo giro Eh Pareva che prendessi qualcosa Ok Ah Non posso girare Eroi Ragazzi Qua ci sono gli Eloi Da comprare Noi abbiamo un budget Di 3000 monete E ci prendiamo Una fottuta sega Perché un cazzo Ci prendiamo E infatti Non ci prendiamo Un ceppa Tutti i personaggi migliori Costano un bordello Tipo questa È fortissimo E lavorai tantissimo Eh Ragazzi Costano troppo 6500 5200 Più Scrausi Vai Abbiamo fatto Giro gratuito Ma porco Troia Non trovo Vabbè Ragazzi Spero che questo video Di League of Legends Ti sia piaciuto Se è così Un bel pollicione In su Ragazzi Saluti da Jabbo Ciao